ciao da alex sonofri in questo video vedremo una tecnica e strategia molto specifica di seduzione che è una di quelle che a me fece tanti anni fa svoltare ok quindi fece passare la mia seduzione da decente buona a molto più buona in un lasso di tempo molto breve che significa che se prima la mia qua ci sta la bravura qua ci sta il tempo se prima la mia bravura cresceva così da questo punto di svolta ha iniziato a crescere più rapidamente ok è una cosa tra l'altro anche semplice da fare che riduce e addirittura elimina un sacco di problemi oltre ad aumentare i vostri diciamo così successi nella seduzione che poi aggiungo parentesi questo serve molto anche nella vendita nella persuasione e in tutti gli altri diciamo così settori però qua diciamo inquadriamola nel settore seduttivo allora qual è questa tecnica che ovviamente ripeto è una delle delle svolte che hanno migliorato la mia seduzione i miei risultati effettivi pratici però andiamola a vedere oggi ho messo un pannello in più perché non riesco a stare fermo insomma nei cambiamenti e nel cercare di offrirvi un servizio migliore però andiamo a questa tecnica allora per spiegarvela dato che io come sapete benissimo non faccio video da due minuti perché in due minuti non si impara la seduzione tramite video così brevi allora vi devo raccontare alcuni elementi che poi ci serviranno a capire bene come utilizzare questa tecnica che è una tecnica che vi svolterà anche a voi sono quasi sicuro perché poi non vi conosco se no avrei detto senza il quasi e quindi andiamo a vedere questa questa questo passaggio e come poi sfruttarlo vale per maschi e per femmine quindi non è dato che io sono etero e maschio e quindi sono interessato a donne ragazze femmine non vale solo per questa diciamo situazione ma per tutte le situazioni come vedrete anzi forse le donne le ragazze avranno ancor più beneficio allora inizialmente dato che io ho iniziato a ad interessarmi alla seduzione al voler conoscere ragazze da quando facevo le scuole medie che andavamo a luna park con i miei amici magari vi riconoscerete se vedrete questo video andavamo a fermare ragazze insomma così proprio per strada lì nel luna park io ero sempre quello che proponeva perché sono sempre stato maniacale cioè non un maniaco ma maniacale nel voler conquistare allora io ho fatto vari vari passaggi varie modifiche fino a un certo punto e poi vi dico perché ve lo spiego fino a un certo punto sono andato naturale diciamo così quello che mi veniva da fare da un certo punto in poi che ho iniziato a ad interessarmi di tecniche di comunicazione di presentazione comunicazione non verbale linguaggio del corpo comunicazione persuasiva vendita anche ipnosi lì ho fatto subito un passaggio ora sto semplificando alla grande poi da quando è esploso anche diciamo in italia il mondo dei seduttori americani almeno un certo tipo di seduzione americana si è iniziati si è iniziata diciamo così questa tendenza a vedere in modo più schematico schematico non in senso negativo ma in modo più diciamo così è sistematico il sedurre una persona quindi andando rapidamente avanti si è iniziato a dare dei nomi alle cose a mettere delle procedure prima di alcune prima delle altre eccetera e per vi dico questo perché voglio farvi l'esempio di di tre elementi così devo vedere se c'entra sì ok così dicevo testiamo questa lavagna anche se per questo video non ci sarebbe bisogno di scrivere però la questa quindi continuiamo continuando questa seduzione americana ha iniziato a mettere dei nomi per alcune cose ad esempio tu quando prendevi un numero tu facevi un number close che significa scusate mi sto sporcando anche tutto pazienza che tra spalle cioè tra amici che andavano insieme a sedurre si diceva o poi hai fatto il number close cioè nel senso hai preso il numero di quella persona lì per poi ovviamente ricontattarla uscirci sedurla eccetera e quindi questo ve lo dico perché questi tre elementi ci serviranno k ovviamente è il kiss kiss close e f è banalmente fuck close quindi diciamo sesso andare a letto con con la persona a fare l'amore chiamatelo come vi pare perché vi dico queste tre cose allora perché si chiama close piccola parentesi probabilmente perché sto imbiancando tutto perché alcuni forse mister insomma questo qua no forse credo che abbia lui iniziato a mettere close nel senso lui ha preso alcuni spunti dalla vendita chiudere un contratto cioè chiudere una vendita è fare un sell close insomma quello contact close insomma queste cose qua e quindi close significa concretizzare diciamo così chiudere un contratto cioè fare una vendita e quindi l'hanno riportato qua n close k close f close sono queste tre cose questo qua piccole parentesi come bonus servono perché quando sei in giro a sedurre e dice a un amico fai n close nessuno capisce cosa significa ma solo chi sta lì con te e così k close e f close lo so che è brutto detto così poi italianizzato k close però se io dico vai per il kiss close cioè inizia a fare insomma quello che devi fare per insomma baciarvi kiss close kiss bacio si capisce invece k close k close no ci davamo i consigli della serie cioè quindi insomma ve lo dico per un motivo molto semplice che questa schematizzazione questa organizzazione che non c'è niente di male con unita a delle tecniche molto più specifiche quindi fai la fase 1 fase 2 fase 3 insomma questa roba qui che poi stavamo sperimentando al momento ha iniziato a sfuggirci un po' di mano cioè non c'è niente di male però noi contavamo quanti anni close facevamo al mese kiss close al mese se al primo incontro facevamo il k close dopo quanti incontri si faceva la f close insomma tutte queste cose qua e si è arrivati che ripeto non c'è niente di male però se poi si esagera con questi numeri si crea un voler velocizzare la concretizzazione cioè il close ok e noi era eravamo arrivati a parte i numeri insomma cioè i numeri nel senso quante quanti numeri hai preso quanti baci hai ottenuto o hai dato insomma quello che è quante che ne sei portato a letto nel lasso di tempo eccetera avevamo perché esageravamo anche per migliorarci preso questa questa sorta in modo nascosto di tendenza a voler ottenere un number close cioè prendere un contatto un numero solitamente che è quello più solido entro la prima conoscenza quindi va in un posto conosci nel caso nostro una ragazza e prima di salutarla dovevamo diciamo così aver preso il numero dice o hai conosciuto quella si hai fatto number close n close no cioè poi vedevi dice vabbè ma hai perso tempo insomma eravamo arrivati a questo punto che ripeto in fase di voler fare tante cose voler imparare molto divertirsi anche e fare anche numeri cioè concretizzazioni non c'è niente di male però questo porta a dei problemi e per questo ve lo sto spiegando quindi per completare il racconto eravamo arrivati che se tu nel day to cioè giorno 2 che 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 sarebbe il primo incontro dopo la conoscenza in cui teoricamente prendi il numero se nel day 2 quindi nel primo incontro a quattro occhi con la ragazza nel nostro caso ma vale anche per i maschi non facevi kiss close diceva bene insomma vai lento hai perso smalto queste cose qua e poi se entro la prima volta che quindi tre quattro incontri al massimo era ripeto in quel periodo non facevi left close e fa close insomma avendo possibilità di farlo insomma diceva bene passa la successiva perché non è questa gran cosa ripeto era una anche una struttura però non c'è niente di male insomma non si faceva male a nessuno stavamo lì per imparare divertirci fare insomma questo gioco in tutti i sensi questo game qua quali sono i problemi e quando è che io ho iniziato a vedere più risultati e ad avere meno diciamo così appunto problematiche su questa cosa qua quando ho smesso questo è il punto di svolta questo almeno questo uno dei punti di svolta quando ho smesso di voler pressare i number close kiss close e fa close adesso chiamiamoli tecnicamente per semplificare perché perché se tu spingi nel voler prendere un numero appena hai conosciuto una persona se poi questa persona non è pronta a dartelo il numero ovviamente e non si è creata una sufficiente situazione tu potresti bruciartela poi vi dico anche perché è così se tu ti dai dei tempi troppo rapidi per ottenere il primo bacio a ho visto due volte quella persona non ci siamo baciati insomma devo spingere cioè a volte c'è questa tendenza ma anche nelle femmine oppure a se è stata a casa sua è venuta a casa tua queste cose ama non ci avete fatto niente come mai ma che problemi a perché ma eri timido ok cioè ognuno sceglie con quale velocità fare queste cose quante farne non stiamo che a fare i preti o i santi però qual è il problema che nel voler concretizzare rapidamente cosa che so che la maggior parte di voi soprattutto i maschi vuol fare ma a volte anche le femmine si va ad inquinare il sistema si va a storpiare perché perché ad esempio alcune persone se vanno a letto con qualcun altro insomma con un'altra persona troppo presto si sentono sbagliate o hanno paura che poi non vengono ricontattate eccetera eccetera quindi prima cosa che che si ottiene nel non pressare velocizzare queste tre cose che vi ho detto come altre ovviamente ma queste tre sono quelle cardine è che primo non ottenete rifiuti quindi uscite con un ragazzo con una ragazza anche se non vi baciate la prima volta o entro la seconda pazienza perché l'importante continuare a creare attrazione connessione conoscervi mettere le basi vedere quali sono gli elementi che poi tratto in altri video della persona e così ovviamente per fare sesso fare l'amore andare a letto insieme ok quindi prima cosa che ottenete nel non velocizzare queste cose ma addirittura aspettare e capite che è contro intuitivo e quasi contro seduttivo è che non ottenete rifiuti perché se voi non volete non richiedete un qualcosa nessuno può dirvi di no secondo elemento è che se voi non diciamo così spingete su queste cose qua in tempi troppo rapidi ma addirittura non ve ne fate troppo carico c'è della serie puntate a creare attrazione interesse connessione conoscervi eccetera eccetera e non ad ottenere il numero il bacio il sesso o qualsiasi altra cosa ok o farvi pagare qualcosa andare a cena fuori che viene a casa vostra che uscite insieme eccetera quindi create attrazione interesse connessione conoscenza questa roba qua primo non ottenete rifiuti secondo la persona se voi non premete pressate è molto più facile che non venga bruciata cioè che non la perdete per un no per un rifiuto un'incomprensione perché andate troppo di fretta e quindi ve la ritrovate intorno andate nei locali nei posti coi vostri amici e c'è ancora questa persona che magari è interessata a voi perché avete creato attrazione nel processo di seduzione e quindi vi fa riprova sociale con gli altri altre persone vedono che questa persona è interessata a voi eccetera e questa persona terzo elemento vede che voi non avete come si dice prescia cioè velocità esigenza impellente o una sete tipo allupati tipo uomo lupo o anche donna lupa ad ottenere cose e questo vi fa guadagnare punti ok però qual è il problema che nel fare questo molte persone rallentano troppo la seduzione quindi qual è la velocità giusta per ottenere queste cose ma senza bruciarsi senza ottenere rifiuti senza diciamo perdere la persona allontanarla eccetera cioè dandosi più tempo e la velocità giusta è ovviamente questo lo sapete se avete letto se avete visto molti altri miei video è andare a vedere quali sono i segnali non verbali di interesse di accettazione o di rifiuto di allontanamento di chiusura che tratto nei miei video sul linguaggio del corpo di questo stesso canale ok che poi vi metto dei link in descrizione eccetera grazie al linguaggio del corpo a degli atteggiamenti a tante altre cose che appunto tratto in quei video voi potete vedere quanto la persona interessata tratta a voi e quindi fare dei passi successivi quindi andando troppo veloci si brucia si ottengono rifiuti perdete la persona non vi fare prova sociale che poi è una cosa in più non è obbligatoria e avete anche aggiungo meno tempo di conoscerla di farvi conoscere e di darvi lo spazio per far aumentare l'attrazione quindi andando troppo veloce bruciate però non dovete andare troppo lenti dovete andare alla velocità massima possibile al punto di andare più rapidi possibili ma senza bruciare ok e questo lo fate verificando i segnali non verbali gli atteggiamenti il linguaggio insomma ma potete farlo anche un pochino a pelle però se volete avere un metodo sistematico guardate gli altri miei video in questo canale che vi linko anche in descrizione e quindi questo a me mi ha fatto svoltare perché quando andavo nei posti primo avevo ancora contatto con queste persone con cui stavamo facendo creare creando attrazione a vicenda o che io stavo cercando di sedurre creando attrazione e quindi non si bruciavano non avevo rifiuti questo portava anche al fatto che non avevo sul groppone come si dice perché sono umano anch'io siamo tutti umani anche voi dopo tanti rifiuti iniziamo ad incrinare la nostra autostima a dire forse sbaglio metodo forse questo non va forse devo abbassare il livello delle persone che scelgo è un gran problema invece così riducendo i rifiuti e riducendo anche le persone che bruciate perché volete pressare volete ottenere cose ma quella persona poi rifiuta e metà anche più delle volte forse più delle volte va via questa persona rimane avete più tempo per sedurla vi torna in giro la trovate probabilmente in giro nei posti che frequentate eccetera eccetera quando diciamo uscite di nuovo e quindi si crea anche quell'effetto gruppo di persone che sono interessate a voi perché ripeto voi non le avete bruciate e avete mostrato che non siete così esigenti così pressa così diciamo così allupati o allupate nel voler ottenere qualcosa quindi questo vi permette di evitare di perdere punti ve li fa guadagnare perché questi sono errori che fanno quasi tutti inoltre se volete anche fare tanti numeri cioè volete andare a letto con mille persone ottenere 3.000 baci insomma ognuno fa quello che vuole non è giusto sbagliato ognuno fa quello che vuole ripeto e a questo va benissimo anche per creare relazioni matrimoni eccetera diciamo anche se volete fare tanti numeri volete fare i seduttori o le seduttrici seriali non è che con questa cosa che vi dico in questo video voi rallentate ma basta che mettete in parallelo conoscete più persone allo stesso momento poi questo decidete voi se volete farlo no se per voi è etico no insomma ognuno fa gli affari suoi e quindi il fatto sta che avrete meno rifiuti meno problemi meno incomprensioni meno sparizioni perché magari voi avete provato ad ottenere il bacio farvi pagare la cena ad uscire a prendere il numero troppo rapidamente in base a quella persona e quindi voi inizierete magari dopo due settimane e non dopo tre giorni però ad avere subito i risultati ok quindi è sempre una scia di perché il vecchio metodo chiamiamolo così è che tu fai un'azione e o chiudi o bruci ok poi ne fai un'altra o chi o chiudi nel senso che che ottieni o bruci eccetera quindi alla fine magari ne bruci un che ne so un facciamo un 40 per cento questo è un 4 e ne ottieni un 60 però se tu invece con il nuovo metodo adesso chiamiamolo così conosci la persona e vai avanti con l'attrazione ne conosci un'altra perché magari non è che vi siete sposati avete vi siete fidanzati e vai avanti con l'attrazione eccetera eccetera qui non bruci non le perdi hai più tempo per sedurle non appari come allupato allupata quindi praticamente guadagni più punti te le ritrovi in giro e quindi puoi riparlarci essere un pochino più solido nell'attrarla o attrarlo insomma la persona e poi se proprio vuoi avrai nel tuo circolo di amicizie gruppi posti dove vai eccetera eccetera magari se la situazione lo prevede lo permette diciamo dei gruppetti di persone che tu con cui tu non hai fatto niente magari di queste cose qua però nemmeno le ha bruciate che comunque hanno un livello di attrazione verso di te magari entrano anche in competizione magari ti fanno quella riprova sociale insomma perché se ho 100 persone che mi vogliono chi vede dice cazzo questo qua è uno fighissimo adesso per dire quindi preselezione da autorità insomma tutta quella roba lì poi qua in fondo magari tu che ne so qua fai cinque di queste cose qua qua probabilmente non bruciando e avendo più tempo eccetera ne farai che ne so sette otto però praticamente non bruci quasi niente bruci lo zero per cento ok quindi o non fai niente o ci fai qualcosa di queste cose qua però non bruci le persone rimangono sempre lì magari diventano amiche diventano delle spalle eccetera quindi non è che si rallenta il sistema perché tu hai anche elemento un elemento per parallelizzare dato che non c'è stato nemmeno un bacio ancora quindi hai più tempo per parallelizzarle e ne bruci di meno hai più tempo per sedurle ripeto quindi alla fine se tu analizzi i dati ogni due mesi ogni mese hai meno problemi meno difficoltà più tempo e una marea di vantaggi in più ok è per questo motivo che io vi dico che uno dei metodi migliori per imparare a sedurre è diventare strong cose che tratto nel mio video corso strong revolution trovate tutto in descrizione perché lì tu vai a lavorare a livello globale di seduzione vai a diventare una persona che gli altri vogliono sedurre ok poi possiamo anche aggiungere i trucchetti linguistici quello l'altro che poi già sono cose che trovate in questo canale ma quando voi imparate a diventare strong il modo migliore più completo con il mio video corso strong revolution vedrete che tutte le tecniche di seduzione tutto quello che conoscete sarà amplificato per almeno 100 adesso faccio dico un numero così per far capire verranno amplificate tantissimo e vedrete che quello sarà un metodo per far sì che le persone che voi volete con ciò che dico in quel video saranno molto spesso loro a voler sedurre voi ok allora ragazzi iscrivetevi al canale mettetevi mettetemi un like a questo video e scrivete sotto se volete altri punti di svolta che mi hanno fatto fare questa questa accelerazione nella mia esperienza di seduzione ok oppure fatemi le vostre domande eccetera iscrivetevi al canale spuntate la campanella io sono alex sonofri tutto questo vi fa diventare più strong perché ciò che fate nelle relazioni e ciò che fate nella vostra vita perché viviamo in una società quindi sedurre persuadere vendere insomma tutte queste cose sono la base il pane quotidiano di una persona strong ci vediamo al prossimo video iscrivetevi ciao da alex sonofri siate sempre strong iscrivetevi al canale